Disputandum, il contenitore per il dibattito di Senza Barcosa, conferenza stampa, interviste, opinioni. Ed eccoci, torniamo in diretta con Disputandum. Sono le 19.00, la Fede di Roma è ancora apperta, fino alle 20.00 potete venire a visitare altri mestieri. Per Senza Barcosa è stata una giornata veramente molto intensa. Alle 11.00 eravamo alla Gorà con lo chef Rita Angeletti a presentare il suo nuovo libro, che poi è rimasta con noi tutto il pomeriggio per firmare le copie e abbracciare i suoi fan. Poi ci è raggiunto anche Germano Zampa, uno degli autori della collana elettoriale Senza Barcosa, con la luce e la notte. Domani è una giornata veramente ricchissima di appuntamenti. Alle 11.00 siamo qua con la compagnia I figli di Apollo, scena in questi giorni. Subito dopo abbiamo altri appuntamenti veramente interessanti. Alle 12.00 Patrizio Scigliano, anche lui per palcogenico, e a seguire il vicepresidente di Animalisti Italiani, Riccardo Manca. Alle 15.30 un amico di Senza Barcosa viene trovato Gianni Colazzone di Liberi TV con la sua videocamera. E alle 16.30 è la volta del firman copie di Andrea Barricelli, di nuovo con lana Senza Barcosa con Troiade. Concludiamo poi con tanti saluti, bacio a Bacci e Pandoro, che domani è l'ultima giornata per lo stand Atene 4 A01 di Senza Barcosa. Abbiamo avuto veramente tantissimo piacere di incontrare tanti amici, nuovi e meno nuovi. Quindi stiamo ad aspettarvi con la nostra web radio, col sito, con la nostra associazione, con tutti i nostri autori emergenti, con i vari corsi che nel 2020 saranno a disposizione per voi. Dalla fine di tutto, vi saluto, a presto. Disputano, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenza stampa, interviste, opinioni. Un giornale online e una web radio...